Spesso nella vita è così, cari amici, se ci si chiede come avviene una malattia, è molto spesso perché non si dà al corpo ciò di cui ha bisogno. La cosa più importante è la calma interiore. Il nostro corpo può fare cose incredibili, ma poi ha bisogno di nuovo della calma, precisamente non della calma esteriore, ma della calma interiore. La calma interiore La calma interiore è così, cari amici, è così importante che Bruno Gröning ce lo consiglia continuamente, dicendo «Tornate nella calma, una, due volte al giorno, prendetevi il tempo, ritiratevi e fate estellen». È così importante che entriamo in noi stessi e che aspiriamo a diventare tutt'uno con Dio. Dopo un certo tempo, finito la estellen, potrete dire «Ah, ora mi sento centrato». Così siete con Dio. È così, lo potete sperimentare. È questo lo stato di benessere che non dobbiamo perdere, che non dobbiamo lasciarci portare via. Agire è bene, ma ognuno ha bisogno di tempo da dedicare a se stesso. Questo significa che ognuno deve fare ciò che è giusto per se stesso. Se avete fatto questo, cosa giusta per voi, questo tempo lo state dedicando a voi stessi, nonostante stiate facendo qualcosa. C'è differenza se cucini in fretta e furia, zac, zac, veloce, veloce, arrivano i bambini e così via. Non siete veramente presenti, lo state solo facendo. Diverso è se dite «Ecco, ora cucino, adesso faccio i biscotti, ora faccio questo». Così siete presenti a voi stessi e lo fate volentieri, con tutto l'amore. Quando avrete finito, avrete avuto del tempo dedicato a voi stessi. Intuite la differenza. Questo intende Bruno Gröning. Quando si fa qualcosa, con tutto l'amore, con tutto il cuore, con tutta la presenza, è giusto utilizzare il tempo così. Cari amici, con ciò Bruno Gröning dice chiaramente che al nostro corpo dobbiamo dare il tempo di cui ha bisogno. Se non abbiamo più tempo per mangiare, non abbiamo più tempo per andare alla toilette, non abbiamo più tempo per dormire, o non abbiamo più tempo per fare Einstein, cari amici, allora tutto ciò è molto triste per noi. Dobbiamo dare al nostro corpo il tempo di cui esso ha bisogno. Spesso nella vita è così, cari amici. Se ci si chiede come avviene una malattia, è molto spesso perché non diamo al corpo ciò di cui ha bisogno. La cosa più importante è la pace interiore. Quando lui ci esorta a fare Einstein per entrare nella calma, è per questo motivo. Il corpo può resistere molto, per esempio quando fa sport, quando lavora tutto gas. Il corpo può fare cose incredibili, ma poi ha bisogno di nuovo della calma, e precisamente non della calma esteriore, ma della calma interiore. Questo l'ho sperimentato alcune volte in azienda. C'era tantissimo da fare. Prima ho pensato, ce la farò, fantastico. Poi, improvvisamente, ho sentito dentro di me un forte tremore. Notai che non era una buona energia, nessuna corrente buona, non era una buona sensazione. Quindi notai che mi ero sforzato troppo, e così ho lasciato tutto alle spalle, come ogni volta che mi era successo, secondo il motto, non sono poi così indispensabile. Sono andato a fare Einstein, telefono spento e calma. Quando si entra nella calma, ci si accorge che il corpo stava tremando interiormente. Questo non è bene. Calma, calma, calma. Einstein, fai scorrere la forza che mette ordine dentro di te. Quando pochi minuti dopo si è di nuovo calmi, è interessante notare che anche i pensieri sono in ordine, e che delle trenta cose che volevamo fare, constatiamo che quindici non sono così importanti. Adesso non hai bisogno di farle. Bastano le altre quindici, e così possiamo farle con calma. In sostanza, fai molto di più di quanto avresti fatto prima. Per questo Bruno Gröning ci indica così amorevolmente che dobbiamo prestare attenzione al nostro corpo, che dobbiamo prenderci del tempo. È molto importante che ogni giorno ritorniamo a noi stessi e usiamo davvero il tempo per orientarci al bene. Grazie a tutti.